Miau! Miau! Uf uf uf! Uf uf uf! Uf uf uf! Miau! Uf uf! Uf 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 uf! Uf uf uf! Bentornati al secondo appuntamento con Cronache Bestiali, la nostra rubrica nella quale ci occupiamo dei nostri amici a quattro zampe. Come sempre parleremo di salute con il dottor Martini e il dottor Albanese, di alimentazione. Parleremo con l'addestratore Simone Grotti che ci insegnerà qualche nuovo comando e come in ogni puntata conosceremo un amico a quattro zampe in cerca di famiglia. Uf uf! Bentornati all'appuntamento con la salute dei nostri amici animali, siamo nuovamente con il dottor Maurizio Martini, oggi parliamo di lesmagnosi, innanzitutto cosa è? Lesmagnosi è una malattia parassitaria trasmessa da un protozoo e l'animale si contagia tramite il morso di un tipo particolare di zanzara che è il flebotomo, detto anche pappataccio e quindi in questa maniera qui la zanzara che è appunto precedentemente un animale infetto ripungendo un secondo animale può trasmettere il parassita. La malattia ha un decorso variabile e una sintomatologia variabilissima, quindi diventa anche difficile a volte diagnosticarla in tempi precoci perché i sintomi sono appunto molto diversi, quelli classici sono sintomi intanto cutanei, quindi l'animale può perdere il pelo, può sviluppare una classica tipo di forfora molto sottile e a scaglie, la perdita di pelo di solito si può localizzare vicino intorno agli occhi, può perdere peso, altri sintomi classici possono essere per esempio perdita di sangue dal naso, zoppie e poi tutta una serie di sintomatologie molto blande come appunto dicevo il dimagramento, la facile affaticabilità, la disappetenza, in alcuni casi il vomito che però sono comuni anche a tanti altri tipi di malattie. Fare una diagnosi precoce, è importante perché alla lunga il parassita va a danneggiare il fegato ed i reni e quindi quando si hanno danni epatici renali ormai in maniera importante, a quel punto lì la malattia è difficile sia da tenere sotto controllo sia è difficile riuscire a fare stare meglio l'animale. Ci sono dei test rapidi che oggi sono di comunissimo utilizzo, in 10 minuti con un prelievo di sangue semplicissimo si ha la risposta positivo o negativo. Se il test viene positivo a quel punto lì bisogna fare degli esami del sangue più approfonditi sia per avere il titolo anticorpale ovvero quante anticorpi ci sono contro l'esmagna dentro l'organismo dell'animale perché questo ci dà un'idea di quante l'esmagna ci sono e poi degli esami del sangue che ci dicono un emocromo e un biochimico che ci dicono la situazione sia dei globuli rossi perché l'esmagna era lunga da anemia e si ha delle condizioni come dicevo prima del rene e del fegato in particolare. Un altro esame importante è l'elettroforesi cioè le proteine plasmatiche del sangue perché quello ci dà un'idea se la malattia è attiva o no perché ci sono animali che sono positivi ma in realtà non hanno una malattia attiva e quindi in quel caso lì sicuramente la situazione è meno grave. Ecco ovviamente anche in questo caso resta fondamentale la prevenzione. Esatto, la prevenzione è ad oggi lo strumento migliore per evitare il diffondersi della lesmagnosi perché purtroppo le terapie non riescono a debellare del tutto il parassita, si riescono a tenere sotto controllo i sintomi ma il parassita rimane nell'organismo e quindi l'animale rimane infettante. La prevenzione si fa combattendo le punture delle zanzare e ci sono dei prodotti antiparassitari che servono proprio a questo. Devono avere specificatamente il controllo della puntura, quindi devono avere dei prodotti repellenti che servono per evitare che la zanzara ponga l'animale. Questa cosa è specificata nel bugiardino del prodotto e quindi quando noi andiamo a comprare i prodotti antiparassitari bisogna essere consapevoli che devono avere anche questa cosa qui nei cani e i trattamenti vanno fatti nei mesi in cui ci sono le zanzare, quindi direi dalla primavera all'autunno inoltrato. Se poi ci sono stagioni invernali dove le temperature si mantengono per più tempo sopra 14 gradi sappiamo che lì in quel caso lì le zanzare comunque ci sono e riescono a pungere, quindi se ci sono degli inverni piuttosto omiti bisogna anche in quel caso lì trattare gli animali contro quegli prodotti che facciano la repellenza. Sino qualche anno fa forse non era così diffusa perlomeno in provincia di Arezzo, oggi qual è invece la diffusione di questa malattia? La provincia di Arezzo come tutta la Toscana è endemica, quindi la malattia è diffusissima, si hanno delle percentuali molto alte soprattutto nelle aree rurali, ma anche in città ci sono delle zone in cui la malattia è molto presente. Le disinfestazioni ambientali riescono a tenere sotto controllo il numero delle zanzare e quindi anche il numero degli animali che si possono infettare, però purtroppo le nostre zone sono veramente molto colpite da questo tipo di malattia. Ben tornati alla rubrica della salute dei nostri amici a quattro zampe, oggi parleremo con il dottor albanese di otiti. Ecco, le otiti sono un sintomo frequente e frustrante nel cane, ma quali sono le cause? Le cause possono essere molteplici, tra quelle più frequenti abbiamo sicuramente corpi strani e in primis le spighe di vegetali, che però sono più che altro focalizzate in un certo periodo dell'anno. La causa più frequente di otite recidivante sono invece le malattie allergiche, quindi sia le allergie legate al cibo, sia le allergie legate ad allergeni ambientali. E come un proprietario come può riconoscere i segnali di un'otite? Sì, il prurito è il primo sintomo, quindi o l'animale, il cane e il gatto che tende a grattarsi nella zona pere auricolare, oppure un altro sintomo che manifesta disagio prurito è lo scuotimento del capo, quindi quando un animale ha prurito alle orecchie tende appunto a scuotere il capo. Oppure, se le otite tendono poi a complicarsi con infezioni batteriche secondarie, è possibile anche sentire del cattivo odore che viene fuori dal canale auricolare o la presenza di materiale essudativo, quindi pus, che testimonia appunto la presenza di una infezione a livello auricolare. Ecco, se le gocce medicinali sono sufficienti per curare un'otite? Dipende dall'otite, dalla gravità, da quali microrganismi hanno colonizzato il canale auricolare, però non sempre sono utili. L'otite va vista in una maniera un po' più complessiva e molte volte per poter risolvere questi otite c'è bisogno di indagini diagnosiche più mirate, soprattutto per le otite croniche, otite proliferative. Quando si creano delle alterazioni croniche che vanno a stenotizzare, quindi a restringere il canale auricolare, in quel caso le gocce potrebbero non essere sufficienti e ci sono altre metodiche terapeutiche, tra cui i lavaggi auricolari, che sono molto molto importanti, richiedono però la sedazione dell'animale, vanno fatti in anestesia, è meglio se con videotoscopia si va a osservare all'interno del canale auricolare quali sono le alterazioni che sono create e una corretta esplorazione anche della membrana timpanica. Quali sono i rischi di un'otite trascurata o mal curata? I rischi sono appunto quelli di creare delle alterazioni anatomiche irreversibili, per cui ci sono otite che se non vengono curate per tempo o mal gestite o, visto che sono solitamente legate a malattie sottostanti, se non si va a rimuovere e eliminare la causa sottostante, queste otite possono diventare otite croniche e purtroppo molte volte non c'è più terapia medica che possa gestirle e si può solo intervenire con una terapia chirurgica, quindi conseguenze che possono essere veramente di importanza notevoli per i nostri animali. Etruria Pet Food in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo, l'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti, perché Etruria Pet Food per consigliarti l'alimentazione appropriata unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a 4 o 2 zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a 4 zampe? Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa, addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto al c-sport ed un addestatore che della sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati alla rubrica con l'addestramento dei nostri amici a 4 zampe, siamo sempre in compagnia di Simone Grotti. Torniamo a parlare del cane che tira e quali sono i comportamenti scorretti dei padroni e come correggerli? Quali sono i più frequenti? Allora, l'errore più frequente che viene fatto è assecondare il cane, quindi il padrone che segue il cane che tira, ok? Questa è la cosa più frequente di tutte. Un altro errore grave, più grave volendo anche dell'assecondarlo, è dare correzioni sbagliate, nel senso molti padroni il cane tira, si innervosiscono, correggono, strattonano, urlano al cane, è tutto inutile, non è, non stai comunicando in quel caso, al cane bisogna comunicarci, la comunicazione è di un certo tipo, quindi va corretto, le correzioni dei padroni fatte male sono molto deleterie, spesso ventiale è la peggior cosa di tutte. Nella pratica vediamo insomma quali sono questi sbagliati. Sì, vediamo alcuni errori. Vai, vai. Cosa sta facendo? Allora, lei sta a, controlla un pochino il cane, la cagna è molto brava, sa quello che deve fare, quindi la segue abbastanza bene, però come vedete, vedi la concentrazione è tutta sul cane, i bracci sono tese, la persona non è rilassata nel fare quello che fa e se fai una passeggiata di un'ora così, hai il braccio destro che ti fa un male cane alla fine. Quindi il consiglio è quello di ammorbidire il palco. Quindi rilassa, ok, rilassa, testa alta, cammina, passo sicuro, tanto te ce l'hai, il passo sicuro. Un'altra cosa, come potete notare, lei è una donna che ha un passo molto sicuro, autoritario. Vai, torna indietro. Ok. Quando ti fermi chiedi il seduto. Ok. Ha un passo molto autoritario, quindi il cane ha portato a seguire. Il cane cerca una guida, un'autorità, quella persona di cui potersi affidare, a cui fare affidamento. Se il cane non si fiderà di noi, non farà mai nulla per noi, ok? Altro errore frequente qual è? Nella pratica. Ce l'ha fatto vedere adesso, no? Si è innervosita, appena, poco, però si è comunque innervosita. L'espressione del cane è cambiata, perché lei, la cagna, si è incuriosita e incuriosendosi, è andata verso la telecamera, è stata corretta su una sua curiosità, ok? Corretta in modo leggermente nervoso che ha portato a una chiusura del cane. Quindi alla base di tutti questi consigli ci sta un cambiamento dell'atteggiamento del padrone, non del cane? No, no. Cambiando l'atteggiamento del padrone, noi cambiamo il cane. Solo in casi di problemi comportamentali abbastanza seri, c'è da fare tanto lavoro sul cane. Comunque sia, se il padrone non è nelle condizioni di farlo, quindi non cambia lui in prima persona, il cane non potrà mai cambiare, capito? Devi portarlo fuori dal padrone, ma non è giusto lavorare così, sono determinati casi molto particolari si fa. Ok? Quindi cambiando l'atteggiamento, cambi il cane, dando sicurezza, dando delle cose chiare, essendo chiari e essendo sempre coerenti, cioè se la regola è quella, è quella, sempre, indipendentemente, il cane allora lavorerà bene, si fiderà di noi, perché siamo persone coerenti. Lui dice ok, lui è sempre così, posso fidarmi. Questa è la chiave principale e dalla passeggiata al guinzaglio lo vedi tutto. Puoi risolvere il 90% di un cane passeggiando bene al guinzaglio. Ecco, nella prossima puntata per oggi è tutto, vedremo i comandi base da insegnare al nostro cane. Torniamo ad occuparci di alimentazione dei nostri amici a quattro zampe, oggi parliamo di gatto. Quali sono le principali differenze? Buonasera innanzitutto. Allora, le differenze principali nel gatto si racchiudono in oggi come nei prodotti grain free o prodotti economici. Nei prodotti economici sono prodotti dove troviamo delle percentuali di cereali, di riso, barbabietola o quant'altro purtroppo le aziende devono mettere per costruirsi una crocchetta. Nel prodotto grain free invece, per gatto, che è un po' la novità di questi ultimi anni, è un prodotto privo di cereali, privo di riso, privo di tutto quello che è l'aggiunta anche di appetenti. Quindi solo ed esclusivamente proteine animali. Tendenzialmente nel gatto tendiamo, le aziende tendono molto ad usare la carne di pollo perché è una carne per il gatto altamente digeribile. Detto questo, poi comunque ci sono anche aziende che usano prodotti profondi proteiche anche di pesce. Però nell'alimentazione secca del gatto principalmente si usano proteine di pollo o tacchino, proprio per la sua alta digeribilità. Senza alcun tipo di cereali e tutte, perché purtroppo il gatto tendenzialmente oggi, le statistiche ci dicono che l'85% dei gatti stanno in casa e purtroppo non fanno attività all'esterno. Questo provoca, c'è un grande, negli ultimi anni, un grande innalzamento delle patologie come renella e tutto quello che eleve a livello di sistema urinario. Ecco perché consigliamo a tutti i nostri clienti o comunque in generale di usare prodotti grain free, solo ed esclusivamente carne perché anche il gatto come il cane è un carnivoro. Ovviamente anche in questo caso sono tante le differenziazioni tra tipologie di alimento. Assolutamente sì. Allora, un po' lo stesso discorso vale sempre anche come l'alimentazione per il cane, le percentuale. La differenza è che nel gatto non abbiamo il prodotto premium in mezzo, ma abbiamo un prodotto economico, quindi con carni fresche inferiore al 20%, abbiamo i super premium con carni superiore al 25-28%. L'etichettatura vale sempre lo stesso discorso, l'etichettatura molto importante, guardare sempre gli ingredienti, la scala e le percentuali di carne. Sul gatto una piccola differenzazione è che sono le parti della proteina animale di cui viene utilizzato. Tendenzialmente il gatto avrebbe bisogno, come in natura, tutti i felini, avrebbe bisogno più dell'apparato intestinale dell'animale. Oggi molte aziende tendono a sostituirle con delle aggiunte di integratori, però tendenzialmente sono prodotti un pochino, diciamo, anche se vengono considerati super premium per carni fresche, ma sono prodotti un po' di bassa gamma. La cosa meglio, specialmente nel gatto, sarebbe prodotto con alte percentuali di carne, per quanto riguarda il secco, per sopperire a certe cose è molto consigliabile usare degli integratori, dall'anti a erbolle, che è una pasta al formaggio per la deglutinazione dei peli, fino ad arrivare alle pasticche digestive, che aiutano appunto il gatto. Le principali differenze tra secco e umido invece per quanto riguarda il gatto quali sono? Allora, per quello che riguarda il secco appunto sono le percentuali di carne, per quello che riguarda l'umido, qui c'è da fare un'altra differenzazione, la carne è carne e rimane tale, ma cambia la qualità della carne, quindi per qualità della carne intendiamo una carne di primo taglio, tendenzialmente nel gatto usiamo anche nell'umido carne di pollo, di panacchino, molto molto bene in questi anni degli studi ci dicono che va molto bene la carne di anatra. Poi, per quello che riguarda il gatto, ecco, molto molto bene va anche il pesce, tendenzialmente sarebbe preferibilmente sempre meglio usare un tonno o un pesce azzurro, che è il tanto disfrattato pesce azzurro, ma che noi ne abbiamo in quantità industriale ed ha anche per i gatti delle proprietà molto 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 interessanti. Per la carne parliamo di un prodotto con carne buona, quando troviamo anche lì la carne sopra l'80% in una scatoletta, bustina, terrina o qualsiasi altro tipo di formato. Preferibilmente a livello di mercato noi consigliamo di non utilizzare, almeno che non si conosca bene il prodotto, quello che riguardano i patè. Purtroppo i gatti sono abbastanza golosi di patè, però nel patè purtroppo viene aggiunta anche tante altre cose che per differenziarsi nel prezzo vengono aggiunte, io consiglio sempre ai nostri clienti di prendere perle, di prendere bocconi, perché lì non si può fregare niente, nessuno. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65, ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti, perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food, ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa, addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto al c-sport ed un addestatore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Torna allo spazio dedicato alle adozioni. Oggi conosciamo al canile comunale di Arezzo, Cora. Chi è Cora? Cora è una cagnolona di cinque anni. È arrivata al canile quattro anni fa, quando era poco più che cucciola insieme alla sorella. La sorella è stata adottata, lei è rimasta qui perché è abbastanza paurosa. I nostri volontari e gli operatori hanno lavorato molto, quindi sono riusciti anche a farli apprezzare le passeggiate, a imparare a salire addirittura nelle macchine, però rimane comunque un cane di base abbastanza insicura. però ecco, infatti cerchiamo per lei un'adozione mirata, nel senso con una famiglia che magari ha un grande giardino in campagna, lontano dalla città, perché comunque lei ha paura delle zone troppo affollate, quindi non è un cane che potrebbe andare per il corso, o comunque ha magari ha paura delle macchine, quindi se qualcuno la volesse adottare in campagna e tutto sarebbe perfetta, anche perché è una cagnolona veramente molto affettuosa, quando si affeziona è veramente molto dolce, tranquillissima, va d'accordo con gli altri cani, non ha problemi con i gatti. L'unico discorso è che è un po' timorosa. E' un po' timorosa magari anche per un passato, insomma, per un abbandono? Sì, ci può essere per un passato, non si sa che cosa possa aver vissuto, anche perché noi l'abbiamo trovata quando aveva circa 7-8 mesi, quindi tutto il pre non lo sappiamo, magari preciso negli anni più delicati in cui il cucciolo deve scoprire, deve essere abituato al mondo esterno, lei non ne ha avuto occasione. E' un cane di taglia grossa, insomma, che ha bisogno anche di un suo spazio. Sì, è in Italia grande, ha bisogno di uno spazio, sicuramente. La cosa fondamentale però per lei è un ambiente, una casa lontano dai rumori cittadini, perché sarebbe più tranquilla. Ovviamente è sterilizzata. Sì, è sterilizzata, vaccinata, negativa alle smaniosi. Insomma, chiunque volesse adottarla può rivolgersi a voi. Esattamente, sì. Per questa puntata è tutto, l'appuntamento come sempre è per la prossima puntata, ovviamente in compagnia dei nostri amici animali. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.